Musica Ciao a tutti ragazzi, sono SamuelTras90 ed eccomi qua ragazzi, ritornato con un nuclear davvero molto bello fatto con l'SMR, come potete vedere è un'arma che non mi ha portato moltissimo sul mio canale comunque sarà un nuclear abbastanza veloce allora prima di tutto vabbè, vi illustro un attimo la classe che diciamo con i fucili d'assalto e la solita insomma con calcio irregolabile, estrazione rapida e cos'altro? boh mi sa, impugnatura, si penso proprio impugnatura e niente vabbè le ricompense e le uccisioni sono le solite UAV, contrattacco e Vsat comunque ragazzi mi volevo scusare un po' con tutti se in questi giorni non vi ho portato video infatti non ne carico uno da più o meno tre giorni ma vabbè ho avuto un po' da fare e comunque non potevo portarvi i stalin perché comunque come sapete nel fine settimana c'è chi esce, c'è chi va al mare quindi alla fine non si ha tempo per giocare quindi per allenarsi perciò appunto non vi ho portato questi video comunque ragazzi vi volevo anche dire in questo poco tempo che ho che io giovedì partirò quindi non penso di poter mettere video fino a lunedì perché tornerò domenica sera e forse lunedì vi porto comunque vi porto comunque un video oppure non lo so se forse se lo programmo non lo so vabbè devo decidere ancora vabbè giovedì partirò a Rimini per andare a fare un torneo di Call of Duty ovviamente già questo lì vado al mare eccetera un torneo di Call of Duty uno contro uno in cerchi e distruggi quindi ragazzi se volete venire io sono lì perché è di Rimini magari se vuole venire se vuole venire a fare una passeggiata lì io sono allo stadium 105 penso che chi è del posto sappia di cosa sto parlando comunque oltre al mio torneo ci sono anche vari tipi di giochi come come che si chiama quel gioco Starcraft tipo una cosa del genere anche torneo uno contro uno di FIFA 13 eccetera dove anche parteciperà il campione italiano Lone Wolf non so se lo sapete vabbè non so se lo conoscete e poi vabbè infine c'è sempre un altro torneo di Call of Duty però 5 contro 5 in cerchi e distruggi parteciperanno se non sbaglio 8 o 16 team non lo ricordo per bene e e verranno anche all'Inferno anche se sono a team di decerto comunque ragazzi sono sono pur sempre forti in 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 cerchi e distruggi vabbè ragazzi comunque il video è finito è durato davvero poco questo video perché come vi ho detto il nuclear l'ho fatto in pochissimo tempo ah vi volevo dire una cosa che diciamo muoio a 30 di fila perché mi faccio uccidere perché tentavo di fare il doppio nuclear ma alla fine non ci sono riuscito perché poi vabbè ma non ci sono a 10 a 15 di fila non sono più riuscito a fare il secondo nuclear comunque ragazzi il video è finito io vi ringrazio per per gli 8.000 e quasi 200 iscritti stiamo salendo abbastanza velocemente io vi ricordo di lasciare un bel like e un commento e ragazzi ci si becca al prossimo video bella vi ringrazio vi ringrazio Grazie.